Oggi, signori miei, parliamo di naturopatia. Ovviamente naturopatia deriva dal naturale, quindi avere una filosofia di vita naturale, tanto per incominciare, ecco, abbiamo bisogno di muoverci, la nostra vita sempre più chiusa negli uffici, ci porta così a diventare apatici, a diventare quasi immobilizzati, per cui il movimento è importante, bisogna muoversi molto, fare ginnastica, camminare tantissimo, ecco, camminare tantissimo, questo allunga la vita, si vive di più, quindi è importante camminare molto per poter vivere più a lungo, si vive più a lungo camminando molto, capito? Sì, sì, si vive più a lungo ma sbuffando tanto. Vabbè, l'altra cosa è questa, il sonno. Non bisogna dormire troppo a lungo, se uno passa la vita a dormire fino a mezzogiorno, io lo so che la disoccupazione può portare anche a questo, uno non ha lavoro, si demoralizza, si deprime, quindi dorme tantissimo. Bisogna dormire poche ore durante la notte, quel giusto che può bastare, sei, sette ore, otto massimo, perché la nostra vita è tutto sommato è breve, se dormiamo a lungo, dormiamo a lungo, viviamo molto di meno, quindi dormendo poco, dormendo meno, viviamo più a lungo, si dorme, cioè dormendo di meno si vive più a lungo, capito? Sì, sì, si vive più a lungo ma sbadigliando tanto, sbadigliando tanto. Ognuno si sceglie la propria filosofia di vita e se la porta avanti come meglio crede, ok? Sì, 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 sì.